Dopo il via libera di Arpac e Noe che hanno scongiurato la presenza di inquinanti nel sottosuolo di Campo Genova siamo in dirittura d'arrivo per ripristinare il mercato bisettimanale. L'annuncio è del sindaco Festa nella consueta diretta Facebook del lunedì sera. Ma nessuno sconto per i furbetti. Dovranno mettersi in regola e pagare le spettanze arretrate. Ne faccia una battaglia di legalità, dice Festa. Ripuliremo il mercato da troppi anni di gestioni opache. Nel mercato che io ho in mente finalmente di far ripartire ci sarà correttezza, trasparenza e legalità. Purtroppo veniamo da 30-40 anni di gestioni un po' opache. Ci sono tanti ambulanti, tante bravissime persone. Però c'è un altro contesto molto magmatico, questo lo dico alla mia comunità e a quelli che ancora oggi mi chiedono, sindaco del mercato, guardate che l'operazione di pulizia che sto effettuando è un'operazione che torna utile soprattutto alla nostra comunità. Avremo finalmente un mercato non solo degno di questo nome rispetto alla organizzazione e rispetto anche alla merce ma rispetto anche alla qualità degli ambulanti che lo frequentano. Perché ribadisco, ci sono tantissime persone per bene e allora